Vi presento Gabriele Bartolini che oggi ci racconta Postgres 9.5 per The Vox. 9.4. 9.4, scusate. Ok, scusatemi di nuovo per il ritardo e cercheremo di riprendere. Quanti di voi erano l'altro giorno al mio talk, che era in inglese? Nessuno. Ok, bene. Quanti di voi usano Postgres? Ok. Quanti non lo usano allora? E ora si comincia ad essere un po' dubbiosi. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, cosa usate? MySQL? Tutti MySQL. Fai di testo? Ok, allora guarda. C'è un uomo. La porta... No, ok. Vi faccio la domanda che ho fatto anche l'altro giorno. Quanti di voi stanno... Non sono contenti di Postgres e vogliono abbandonarlo? Ok. Anche te per Multimaster. Ok. Ti rifaccio la domanda che ho fatto al tuo collega. Hai bisogno di Multimaster? Sì, come mai? E hai bisogno di Multimaster? Sei sicuro? Per quale motivo? Ma quello sempre? Ma hai requisiti di business che ti dicono che tu devi ripristinare il database entro 5 secondi? 10 secondi? 10 secondi? 10 secondi. Ok, quindi esatto. Hai dei costi. Quindi un downtime di un'ora costa X. Costa meno di implementare una soluzione di failover automatico con monitoraggio che considera i rischi, ad esempio, di uno split brain con una perdita di dati, di un sistema che riparte in modo sbagliato. Quindi diciamo che questo è un po' l'approccio che cerchiamo di veicolare anche con questi interventi. Spesso arriviamo con un problema tecnico e cerchiamo di risolvere problemi non tecnici con problemi tecnici, con soluzioni tecniche. Partendo proprio da quella. Ad esempio, tante volte mi viene chiesto, io non scelgo Postgres perché ho bisogno dello sharding. Ma scegli lo sharding? È un'altra motivazione. Ha bisogno dello sharding perché ti serve o perché pensi che sia una tecnologia che comunque ti permette di scalare infinitamente e poi magari hai il sito della zia che devi tenere online? Capito? Quindi c'è un bilanciamento. Certo, il multimaster è una funzionalità che Postgres al momento non ha, però poi vediamo anche come ce l'hanno gli altri. Perché non sono per fare neanche le soluzioni che costano milioni di euro di licenze l'anno. Per cui è tutto, diciamo, relativo, secondo me deve essere tutto ricondotto a una questione di rischi e costi. Ok? Però ecco, diciamo, il multimaster è ovviamente una limitazione di Postgres alla quale stiamo lavorando, soprattutto anche con un Siamo Quadrant. Quindi comunque, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di Postgres e grazie per... Non è un controporto che si chiama? No, 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 ma a me piace capire i limiti di Postgres e soprattutto dove possiamo migliorare. Quindi mi fa piacere che tutti gli altri siano più o meno contenti. E avete tutti la 9.4? Chi è che ha la 9.4 in produzione? Partono, uno, due, due, ok, perfetto. Voi? Nove... Nove, due, sì. Ok, comunque adesso parliamo della 9.4, che è la versione 23 di Postgres. Ok? Quindi Postgres è nato diversi anni fa. Quindi questa è la release 23 e negli ultimi otto anni è stata rilasciata una release ogni anno. Quindi più o meno il ritmo è questo. Questo talk, ve lo dico subito, è un talk che di solito dura 45-50 minuti. Per cui ora lo facciamo 45-50 minuti e passiamo a quello dopo, sopra quello dopo. No, scherzo. Cercherò di darvi un'infarinatura di tutte le novità e poi ovviamente se avete interesse ci potete fermare. Quindi correrò abbastanza veloce. Quando si parla di Postgres usate PostgresQL o Postgres. Basta, non ne usate altri. Quindi se avete problemi in italiano preferiamo dire Postgres, perché è più semplice. Ok? Brevemente io sono membro della comunità Postgres e sono anche direttore di Second Quadrant Italia. Queste sono alcune delle mie tappe fondamentali. Però diciamo ho abbracciato Postgres all'incirca nel 2000. Come Second Quadrant siamo il più grande team di esperti Postgres al mondo. E ci occupiamo essenzialmente di recovery e replica, avendo scritto gran parte delle funzionalità di Postgres. Tra l'altro a breve usciremo con la seconda edizione del libro su il ricettario di amministrazione Postgres. Il nostro fiore all'occhiello è il supporto 24-7 che eroghiamo con shift di 6 ore da 4 centri in diverse località del mondo. E garantiamo la risoluzione e offriamo anche 15 minuti di tempo di risposta. Questo soprattutto è importante per grandi aziende o per banche soprattutto. Quindi questo potrebbe essere un costo da imputare invece di un failover automatico. DevOps, quanti di voi conoscono DevOps e lo applicano? Ok, mi piacerebbe parlare un po' più del DevOps però purtroppo... Brevemente, l'obiettivo di DevOps è quello di abbattere un movimento culturale. Cioè l'obiettivo è quello di abbattere le barriere che ci sono fra sviluppatori e amministratori. Che solitamente lavorano in due compartimenti stagni. E quindi l'obiettivo è quello di collaborare comunicando e integrandosi nei processi produttivi. Quindi questo proprio a grandi linee. Se volete avere maggiori informazioni c'è questo talk fatto da me e Marco tra l'altro che spiega come gestire Postgres in ambienti DevOps. E c'è un'introduzione sul DevOps. Quindi partiamo con le novità per sviluppatori. La prima è in ambito NoSQL. Quanti di voi erano ieri al talk di Marco sull'HStore, JSON-B, eccetera? Perché? Ah, va bene. Perfetto. Quindi comunque Postgres 9.4 introduce il tipo di dato JSON-B, che è un JSON binario, in formato binario. Per arrivare al dunque, poi magari potete ottenere più informazioni guardando le slide di Marco o rivedendo il video. essenzialmente c'è stata un'ottimizzazione nella memorizzazione e soprattutto l'abilitazione a indici ottimizzati di tipo GIN. Quindi questo tra l'altro ha portato a, su un singolo nodo, a ottenere performance superiore addirittura a MongoDB, che è una piattaforma verticale di tipo NoSQL. Questo è in breve l'esempio fatto da Marco ieri. Trovate il benchmark e lo potete anche ripetere sui vostri sistemi. essenzialmente la cosa più interessante è questo indice, che è un indice generico, che viene creato sulla tabella Reviews, sul campo Review, e utilizza l'operatore di tipo PathOps, per cui è molto, cioè, riuscite a eseguire ricerche di path all'interno di una colonna JSON-B dentro una tabella. E questo è molto veloce. C'è anche un articolo di blog, lo trovate su blog.secondquadrant.it.com Le viste materializzate. Le viste materializzate sono state introdotte nella 9.3, ma sono più performanti dalla 9.4, grazie al refresh concurrently. Cioè, una vista materializzata è una vista che può essere resa statica, quindi come se fosse una tabella. Quindi, eseguendo un comando refresh, viene eseguita quella vista e il contenuto cashato, perdonatemi il termine, in modo permanente. Quindi, tra l'altro, su questa vista materializzata è possibile anche creare degli indici. Quindi, per chi usa Data Warehouse, questa comincia ad essere una funzionalità interessante. E il concurrently, introdotto nella 9.4, non blocca le letture da parte degli utenti della vista materializzata. Mentre nella 9.3, un refresh bloccava l'accesso, in modo esclusivo. Ci sono poi le viste aggiornabili, e qui, bypass completamente, sono viste sulle quali potete eseguire delle istruzioni di DML. Quindi, inserimento, aggiornamento e cancellazione. Ci sono delle regolette, insomma, poi ve le guardate sulle slide. Sono state aggiunte poi delle clausole within group e filter, soprattutto utili per l'analisi dei dati e la reportistica. Poi, l'explain è stato migliorato, e poi sono stati inseriti dei costruttori per dati temporali. Quindi, adesso è possibile, in modo molto semplice, creare, ad esempio, gli intervalli, passando giorni, ore, eccetera. Andiamo alla parte OPS. Quindi, la 9.4 rappresenta un altro piccolo passo verso il multimaster. In particolare, sono stati aggiunti i replication slot, che sono dei bacini di wall, che Postgres tiene per ogni client della streaming replication. Quindi, Postgres è in grado di sapere lo stato di ogni client di streaming replication, quindi di ogni stand-by, e di tenersi wall necessari a quel client per rimanere sincronizzato. Quindi, non dovrete più impazzire, per chi usa, impazzire, fra virgolette, per chi usa la streaming replication ora, con il parametro wall keep segments, dove dovete tenere, ad esempio, un bacino alto di segmenti wall. I replication slot sono alla base della replica logica, che vediamo a breve. Quindi, per configurare i replication slot fisici, è sufficiente nel recovery conf, nel Postgres conf, inserire il numero massimo, quindi sul master di replication slot, e nel recovery conf, indicare lo slot per lo stand-by. Quindi, uno slot può essere anche condiviso da più stand-by. Quindi, questo avete scelta, ampia scelta. Viene poi introdotto un nuovo livello per la gestione dei wall. Oltre a minimal archive e hot stand-by, ora viene aggiunto wall level, logical. Quindi, nel wall ci saranno più informazioni necessarie alla decodifica logica. La decodifica logica, e quindi anche la produzione di tutti questi eventi, può essere abilitata a livello di singolo database. Questa è la prima differenza. La streaming replication opera su un cluster intero, quindi io replico tutti gli eventi di un server Postgres. Quella logica opera su un singolo database. e può essere poi controllata a livello di singola tabella. Quindi, si crea, ad esempio, uno slot logico, chiamiamolo myslot, e Postgres comincia a accumulare gli eventi lì sopra, come se fosse un producer di una coda. Poi, tramite il comando replica identity, possiamo controllare la granularità di queste informazioni e quindi, ad esempio, già la 9.4 fornisce delle primitive basi, ma siamo solo agli inizi. Capite che la decodifica logica vi apre delle opportunità in termini architetturali che sono fantastiche. Perché? Pensate solamente al fatto che Postgres è in grado di raccogliere eventi e poi voi create dei consumer vostri che, ad esempio, li replicano su un database Oracle. Questo, per chi magari deve iniziare una migrazione pluriannale da Oracle a Postgres, ci saranno dei momenti in cui avrete entrambi i sistemi. E il primario sarà su Postgres, ma dovrà nutrire un database Oracle. In questo modo, in modo praticamente simultaneo, asincrono, ma molto piccolo, riuscite a aggiornare il database Oracle. E togliete soprattutto le repliche basate su trigger, tipo Londist, Slony. Con questa tecnologia andranno a sparire. Questo è un piccolo esempio. Vedete che nel replication slot finiscono, possono finire sia tutti i vecchi valori di un record e quelli nuovi. Quindi poi, con i vostri consumer, siete in grado di fare praticamente quello che volete. Anche sistemi di auditing. Se siete interessati, poi c'è il progetto BDR, che è la replica bidirezionale, che è un progetto finanziato anche dalla comunità europea, sul quale sta lavorando Second Quadrant. E l'obiettivo nostro è quello di lavorare sulla BDR e introdurre via via sempre più funzionalità dentro il core di Postgres. Gli replication slot e la decodifica logica sono due di queste grosse funzionalità. Poi, c'è la possibilità di utilizzare il PG pre-warm, che vi permette di riscaldare la cache in seguito a un riavvio. Una miglior gestione dei table space, quindi cambiare, ad esempio, muovere tabelle indici su un altro table space, con delle istruzioni DDL. Poi c'è, questo è il mio piccolo contributo alla 9.4, la statistica VG Stat Archiver. e tra l'altro noi l'abbiamo integrata in Barman, per cui chi usa Barman per la Disaster Recovery e la 9.4 avrà un migliore supporto per il monitoraggio della replica, della Disaster Recovery, della Continuous Archiving, soprattutto. Sono stati poi introdotti gli standby in ritardo, quindi è la prima forma di Disaster Recovery disponibile nella replica. Questo perché potete avere uno standby che è, ad esempio, 10 ore in ritardo, per cui se il DBA, ad esempio, cancella una tabella in questo momento, voi avete, ad esempio, 8 ore per far ripartire lo standby al minuto prima o alla transazione prima della cancellazione, senza dover ripartire dal backup. Infine, è possibile utilizzare il comando alter system per cambiare la configurazione al volo di parametri Postgres direttamente dall'SQL. Per cui questa era la mia overview e ci dovrei essere entrato, giusto? 6 minuti, perfetto, per le domande. Ah no, ci avevo... Allora c'erano 6 minuti prima. Sì, perfetto. No, no, io le lasciavo per le domande queste. Sono andato... Magari se ci sono delle parti che volete approfondire oppure se avete domande. 6 minuti. Se avete domande... Quando parli dei consumer, quindi a prescindere dalla migrazione più o meno lunga la logica comunque del consumer è tutta sua, fallimenti, non posso fare rollback, non posso... Postgres ha fatto l'operazione. Allora, ok. Questo vale in genere sempre per un consumer. Allora, Postgres genera l'evento al momento della commit. Per cui quando c'è una commit, l'evento, il record viene inserito nello slot logico. Per cui transazionalmente sei a posto sul master. Al momento in cui tiri fuori l'evento, e qui c'è un esempio... No, l'esempio, scusate, era su... No, non c'è qui l'esempio. E questo qui, ecco. Scusate. Al momento ci sono solo queste primitive. Comunque te potresti iscriverti il tuo consumer nel linguaggio che preferisci. Tra l'altro c'è lo slot get che te li leva dalla coda. Quelli li legge e li leva dalla coda. Il pick nel quale invece dà un'occhiata e basta, ma li lasci dentro. Ok, quindi per ora hai queste due opportunità. Potresti inizialmente usare semplicemente il get changes, ti tira fuori gli eventi, e te poi ne analizzi uno a uno. Questi sono, vedi, al gruppo di transazione. Questo c'è il begin della transazione, le operazioni che la transazione ha fatto sul master, e poi c'è il commit. Quindi sta a te scrivere, ad esempio, il consumer che fa il parsing di questa riga e decide cosa fare. Magari, ecco, aggiornare un data warehouse, replicare solo certi eventi su altri database Postgres. La BDR o c'è anche la unidirectional replication, dove c'è un master e a livello architetturale la replica va solo in una direzione. Funziona così essenzialmente, a grandi linee. Cioè in modo automatico ti prende i cambiamenti e te li manda su tutti i nodi del tuo cluster BDR, ad esempio. E te puoi scrivere in qualsiasi nodo del cluster. Quindi in effetti ha un multimaster. Poi lì entrano in gioco le politiche dei conflitti, eccetera, quindi lì c'è da stare attenti. Però ecco, la BDR già funziona. Non l'abbiamo in produzione con dei clienti. E grossi. Si parla di pagamenti, insomma, carte di credito. Altre domande? Ho risposto? Eric, grazie. Ciao. Allora, io uso ancora MySQL semplicemente perché stando ancora all'università non ho affrontato ancora nessun progetto, diciamo, così industriale. Però dopo tre giorni di Python tutti, ah, Postgres, Postgres, bello, bello, funziona. Ok. Se ti chiedessi un buon motivo per abbandonare MySQL e cominciare subito a usare Postgres, cioè, entrambi i database, perché scegliere Postgres invece che MySQL? Scegliere da uno. Basta uno. La licenza. È quello più... Leggi la licenza. Leggi un po' la storia. Al di là delle... Non voglio entrare sul tecnico perché sul tecnico dovrei essere un esperto anche MySQL. Io ti posso dire quello che è bello di Postgres ma non ti dico niente di MySQL. Però io anche a livello aziendale il consiglio che ho sempre dato prima che poi MySQL... Quando ancora era MySQL AB era quello di leggere la licenza. E come è successo per MySQL probabilmente succederà per altri. È una questione di tempo, secondo me, ma è il mio modesto parere. Capito? Però, ecco, leggere la documentazione e poi informarti sulle caratteristiche tecniche. A livello di tecnologia se poi ha domande e dopo magari si può parlare tranquillamente. Capito? Però io ti direi proprio la licenza. Se avete un'altra domanda, un minutino ce ne abbiamo. Se no, le fate... Ok. A livello di prestazioni, avere molti slot impatta molto o ha un costo basso? Ora, quanti sono stati testati? Noi con il bench, ma anche una decina almeno. Si, comunque, è... Si, comunque, è... Agisce tanto sull'Archiver che decide quando buttare via i lottori. Dipende poi dalla potenzialità anche dei server che hai, capito? Come è tutto. Se usi un Raspberry, ovviamente, hai prestazioni diverse rispetto a un Power 8 o giù di linzo. Quindi, quello va sempre comunque provato. Però, noi ci abbiamo visto, ci sono dei benchmark anche sulla BDR che dimostrano che l'impatto è veramente bassissimo. Quindi, circa, mi sembra, un 20% rispetto ad esempio a una soluzione trigger-based. Quindi... Quindi, questo, diciamo, noi ancora non abbiamo visto quello che succederà. Cioè, queste sono le basi per, fra un paio d'anni, ci saranno le ripercussioni anche sugli tool esterni, ecco. Ok, grazie. Prima di andare vi ricordo che c'è una forma di feedback per l'intera conferenza, quindi prendete il tuo URL, andate sul sito e compilatela così. L'anno prossimo miglioriamo. Grazie mille. Grazie.